Un saluto ai nostri telespettatori e benvenuti a questa nuova puntata dedicata alla rassegna stampa dell'ultimo numero di Le Fonti Legal. Un numero particolare, quello di novembre, perché troverete in allegato uno speciale dedicato agli avvocati penalisti. Per quale motivo? Perché è legato strettamente all'attualità e alla riforma dell'ordinamento penale, alla riforma cartabia che è entrata in vigore il mese scorso e che appunto è stata commentata dai principali avvocati penalisti all'interno dello speciale allegato. Ma andiamo con ordine, partiamo proprio dalla copertina dell'ultimo numero di Le Fonti Legal che invece è dedicato a uno studio internazionale, uno degli studi internazionali più attivi del momento che è Avocom con il senior partner Francesco Delbene che ci ha raccontato i traguardi e gli obiettivi dello studio che appunto continua nella sua espansione a livello internazionale. Andiamo a vedere meglio i contenuti appunto dell'intervista dedicata a Francesco Delbene. Abbiamo parlato appunto delle specializzazioni dello studio che vanno dal settore del project finance all'energy, all'assistenza, alle start-up innovative. A questo proposito un punto molto importante dell'intervista a Francesco Delbene è stato quello che appunto è dedicato alle start-up innovative che appunto dovrebbero concentrarsi più sui mercati esteri che possono offrire maggiori opportunità per effettuare un exit all'altezza della ricerca e appunto dell'innovazione sviluppate dalle nuove imprese. È un settore veramente in grossissima evoluzione. Chiaramente poi per quanto riguarda la strategia di Avocom prosegue a livello internazionale nella sua espansione in Medio Oriente e nel Far East in particolare, ma troverete altri dettagli all'interno dell'intervista e altri spunti interessanti all'interno della rivista. Ora mi concentrerei però sullo speciale Penalissi che vi ho annunciato in apertura. Partiamo appunto dalla copertina dello speciale dove vediamo i volti degli avvocati che hanno partecipato a questa rassegna che come vi dicevo oggi è più che mai importante e necessaria vista l'attualità che sta riguardando il settore penale con appunto la riforma cartabia approvata e pubblicata in gazzetta ufficiale ma che però come sappiamo dispiegherà poi i suoi effetti nei prossimi mesi trattandosi per lo più di deleghe contenuti nella riforma che dovranno essere applicate con i relativi decreti legislativi. Ma ecco gli impianti, partiamo appunto dagli obiettivi che si pone l'impianto normativo che sono più che ambiziose e che giustificano appunto questo dibattito e che appunto sono quelli di ridurre i tempi di giustizia come richiesto appunto dal piano di ripartenza nazionale il famoso PNRR che da decenni appunto penalizzano il nostro paese sia in termini di risposta alla domanda di giustizia da parte dei cittadini sia proprio in termini di attrattività per gli investimenti dall'estero dato appunto che i tempi di giustizia sono così lunghi lo speciale è così strutturato nel senso la prima parte è dedicata agli interventi di natura istituzionale troviamo, si va appunto dal Ministro della Giustizia Marta Cartabi al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano Vinicio Nardo fino al Presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane Gian Domenico Cagliazza e ognuno appunto pone il quadro e le aspettative riposte in questa riforma in questo importante impianto normativo abbiamo poi coinvolto chi questa riforma appunto la dovrà mettere in pratica ovvero proprio gli avvocati penalisti vi appunto faccio un elenco insomma degli studi che hanno partecipato a questo dibattito e che sono Buge Melendez Di Noia Federico Simbari, Gebbia Bortolotto lo studio legale associato Isola Bella, lo studio Padovani e lo studio Crippa Vallese all'interno dello speciale verrete appunto tutte le valutazioni di questi grandi avvocati penalisti rispetto sia appunto agli effetti che avrà questa riforma sul processo penale sia proprio al ruolo importante che è demandato all'avvocato penalista di appunto mettere in pratica le nuove novità normative torneremo chiaramente su questo punto nell'anno venturo per vedere appunto poi i decreti legislativi attuativi come saranno come appunto gli spiegherà gli effetti questa riforma ma intanto appunto vi auguro una buona lettura e vi do appuntamento alla prossima puntata della rassegna stampa di Le Fonti Liga su Le Fonti TV Grazie a tutti